Sono Monica Giovenco, affiliata a Solo Affitti Roma 17. I miei uffici si trovano a Roma, in Viale Somalia 6. Affittare una casa oggi significa affidare il proprio patrimonio ad un estraneo. Con il sistema Solo Affitti sono in grado di selezionare l'inquilino perfetto, assicurandoti una gestione serena e tranquilla. Vuoi sapere come? Contattami! Grazie a tutti!